Rinviato a giudizio per tutti i capi di imputazione che sono stati contestati dalla procura di Perugia l'ex consigliere del CSM Luca Palamara, accusato di corruzione per i suoi rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti. La decisione è stata presa dal GUP di Perugia. Il GUP di Perugia ha anche rinviato a giudizio per concorso in corruzione per un atto d'ufficio a Dele Attisani, considerata dall'accusa istigatrice delle presunte condotte lecite di Palamara. Il processo a lei e all'ex magistrato comincerà il 15 novembre prossimo davanti al primo collegio del tribunale di Perugia. Grazie.